Buongiorno famiglie, siamo Francesco, Camilla, Elisa, Guglielmo, Michela, Alice, Stefano, Tiana, Claudio, Tiana, Giorga, Giovanni, Levi, Carla, gli educatori e le educatrici del villaggio che cresce. Anche se in questo periodo non possiamo essere fisicamente con voi e i vostri figli, non abbiamo smesso di pensarvi. Per sentirci un po' più vicini, abbiamo deciso di realizzare dei video che facciano compagnia. Nel video ci vedete mettere in campo i nostri numerosi talenti. Dalla realizzazione di piccoli lavoretti, alla preparazione di ricette fruziose, passando per i tantissimi sport che si possono fare a casa, fino a dei giochi pensati apposta per voi e ai quali vi invitiamo a partecipare. Eh sì, perché ci sarà una classifica aggiornata ogni fine settimana. E alla fine di questo periodo di quarantena ci ritroveremo per le premiazioni. E faremo una grande festa e ci apprezzeremo tutti insieme. Siete pronti? A breve riceverete il primo video. Noi aspettiamo le vostre risposte. Mame e papà, mostrate questo video ai vostri bambini. Ci mancate tanto e non vediamo l'ora di ridere e giocare ancora con tutto il villaggio. Ti prego non mi uccidere il mood die. Ti prego non mi uccidere il mood die. Andava bene? Benissimo, è stato fantastico. Alla ragazza. Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood die.